Ciao e benvenuti in questa nuova ricetta di Bimby Boss. Prosegue la nostra avventura in questa nuova rubrica e la ricetta che ti propongo oggi è presa dal film Pulp Fiction esattamente la scena in cui c'è Uma Thurman che beve il milkshake insieme a John Travolta ed è praticamente una scena cult di questo film. Perciò iniziamo subito e vediamo prima di tutto gli ingredienti che ci servono. 100 g di zucchero, 140 g di ghiaccio in cubetti, una bustina di vanillina, una fiala di essenza di vaniglia e 600 g di latte e delle ciliegie candite. Il primo passaggio sarà polverizzare 100 g di zucchero all'interno del boccale del Bimby. Richiudiamo e impostiamo 10 secondi, velocità 9. Ora inseriamo all'interno del boccale 140 g di ghiaccio a cubetti. Richiudiamo di nuovo col tappino e impostiamo nuovamente 10 secondi, velocità 9. Ora aggiungiamo 600 g di latte. Una bustina di vanillina. Dopodiché uniamo una fiala di essenza di vaniglia. Se avete trovato, come me, la versione grossa, quella da 5 ml, usatene solo la metà. Posizionate la farfalla all'interno del boccale del Bimby. Richiudete col tappo. Posizionate il misurino. E impostate 2 minuti, velocità 3. Eccoci qua. Milkshake finito. Adesso andiamo. Questo è quello originale di Pulp Fiction, ragazzi. E il milkshake è pronto. Io ti ringrazio di aver guardato questa videoricetta. Ti invito a iscriverti al canale e a fare mi piace. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Allora. Goddamn, è stata una f***ing buona milkshake. Told you. Non, se fosse una f***ing buona, è stata una f***ing buona.